Ciao a tutti e a tutti e benvenuti in questo buonissimo video, io sono Funtime, in realtà io non sono Funtime Reddy, perché sono andato in questo stato, cosa è successo nel mio corpo? Ecco, perché c'è un endoscene sui verso di stato qualcuno? Io? Cosa è successo? Perché mi dico, ma scusatemi, ma chi chi mi ha fatto? Scusatemi eh, cioè io ero lì tranquillamente a dormire oggi e guardate come sono ridotto, cioè, ma cosa è successo? Perché c'ho tipo, 80 piedi, anzi 3 piedi che sembra molto... Cos'è sto? Sto alla cucina di Mangoli? Mangoli io non voglio risultarti, però vado, mi distracciono, ma la famiglia è molto te, cioè ho 3 mani, ho 4 braccia, ti sembro l'ultra creatura di Ben 10? Oh mio Dio, cos'è successo la mia faccia? Perché non c'è il mio colore rosa e bianco? Invece c'è lo grigio e bianco, devo fare paura ai bambini, perché io non sono stato creato per animare le teste e fare ridi di bambini, ora invece ne faccio paura, ma io non lo so. E perché non sono i miei occhi, i miei occhi azzurri, ci sono due palline di neon rosso che sembra il demonio in persona? Cos'è successo? Perché faccio un colore lungo che non ci riesco neanche ad arrivare alla mano? Cos'è successo? C'ho solo il mio nello scadetto, il colore è rimasto, iendo, se sei stato tu per caso? Eh, lo so. Ma perché? Cosa è successo? Perché ci siamo tutti cambiati? Cioè, io ho stato dormito tranquillamente, adesso non ci dà come questo stato. Cioè, io non so, parte del fatto che tipo, oltre il cammino, non ci riesco proprio a muovermi, come faccio a muovermi? Come faccio, non dico a muovermi? Do bene i cambi che se ne vanno uno dall'altra parte, uno da quell'altra? Oh mio Dio, e poi, boni, bonbon, ci sei? E mi ha curto anche bonbon, cosa è successo? Avete disattivato anche i bonboni? Madonna santa, ci mancava anche questo. Ma cosa è successo nel corpo? Io lo dico, io adesso mi arrabbiando d'ascolto e glielo dico, il programmatore dove cazzo ha questo programmatore? E gli disse che dovevano fare il... E gli disse che dovevano fare il rinnovo e lui, cazzo, tu no? Oh mio Dio, ma perché? Noi dovremmo sempre essere così autonomi, andare in giro così per tutta la pizzeria, tanto che se ne frega, tanto ho sprovato un mega freddy, con 50.000 mani da su un mio nego, no, 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 fate finta di un cliente, mi raccomando. Madonna santa, quanto sono arrabbiato, sono arrabbiato perché c'è gente qua che non se ne sbatti le palle di noi robot, non che ci fanno la riorganizzazione del sistema, no? Ci lasciano via poltrini alla famiglia, altro che sicuri, sicuri di sto, di sto cavolo. Ah mio Dio, ci mancava anche il bonbon morto, c'è una macchina da dare in giro che è questo bonbon morto? Cioè, il bonbon è anche il mio risponde, i comandi, che devo andare in giro con una mano e il bonbon morto. Che bello, la vita è sempre più bella, sempre più bella. Per non parlare delle due braccia di nani, che non hanno niente, cioè perché? Cioè, tanto si muove da sole, sento un wittibologico tratto, nello stato già neppure di senso un senso. E tra l'altro il mio corpo non assomiglia neanche nel tuo scheletro di niente, assomiglia a quel collo fantomatico di parioccio di merda, che è un robot schifoso di Erland, per brutto pezzo di duck. E non è altro, che deve sempre rovinare la vita sotto le persone che incontra. E prima, apre, ma è lì, ce la puoi diventare scambicchi. Adesso tocca a me, tra un po' tocca, tra un po' tocca, a la mia amica Foxy, cioè non lo so io. Ma mi pare normale come cosa, trattare di merda, mostri tanto di schifoni. Ah, madonna santa. Io adesso, quindi sto qui, aspettate a più giù. Tanti, su, sveglia a più di me, perché veramente io devo essere. Cos'è successo al mio corpo? Che mi ha fatto in questo modo? Io voglio parlare con il creatore di questo coglio, dove è finito tutta la mia, viva la settimana, tutto il mio colore e il mio corpo, con il mio bambino, che mi faceva impazzire la mattina e la sera, che sembrava un ligno di unito, ma io voglio arrivare a mio mento scagliato. Dove cazzo di unito? Ah, ma qua, guarda, meglio non parlare con il suo perché tanti guardi ascoltano il suo. Ah, ma non ti pare ad andare in cino in questo modo? Tratto come me faccio camminare, che io ti voglio una parte, poi lo dite alasco e non so più dove toccava andare. Ma mi sembra un buonore. Ah, finalmente, come più neanche, però faccio il merda da bambina dell'asilo. Ah, meno male mi hanno ridato almeno la voce della maschera, oh, e meno male. Va bene, sì, scusatemi se è venuto a parlare con voi, ma diciamo che era una specie di speciale da quello che ho capito qua in pizzeria. Ehm, da quello che ho capito c'è anche lo speciale in cui c'è altri scritti, quindi vi vorrei ringraziare per tutti gli scritti che praticamente si sono inseriti all'interno del canale. Ehm, questa è una specie di parlantina, non lo so, io comunque qui aspetto un cane qualcuno arriva e non lo so, io ci sono io, qualcuno mi sente? Ehm, e no, eh, invece no. Ah, che bello. Comunque se vi è piaciuto lasciate un bel pericione in su e lasciate un bel commento se vi piacerebbe che continui e magari cominci a parlare con gli altri animatronici, e così vi chiediamo e credo di far arrivare con voi per dirvi a loro cazzate su determinati cambiamenti del loro corpo, anche se, anche perché, che brutto. E' vero, sarà brutto per i 50 mili umani, per altri mili umani che neanche, neanche, ma neanche, meno ce l'ha. Ehm, forse sì, no. E niente, spero che vi sia conciuto. Lasciate qui e, come ho detto prima, un bel pollicione in su per sostenere il canale. Ehm, wow, alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao.